E c'è il vantaggio dell'Udinese a Reggio Emilia, ha segnato Okaka al settimo minuto, Sassuolo 0, Udinese 1, Okaka, linea Bologna. Grazie a Bisogna di posizionamento, va via De Paul sulla destra, 2 contro 1, un solo difensore del Sassuolo, De Paul è bravissimo a imbeccare Okaka che con il portiere consigli fuori dai pali deve solamente spingere in porta per il gol del vantaggio dell'Udinese realizzato da Stefano Okaka. 16 e mezzo qui a Reggio Emilia, Sassuolo 0